Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata della Diversity 2 YUPI Banana maledetta Che facciamo oggi? Allora, allora Che facciamo, il trivia? Quello che non mi avete fatto fa l'altra volta, il trivia La banana del tuo amo Teletrasporto, Star Trek Pace Banana, devi venire con noi Banana Non la vedo la banana Ok La banana Ma perché fai sempre l'effetto del teletrasporto? Perché c'è un problema di realtà Allora, fermi, fermi, fermi Allora, clicco Allora, benvenuta la domanda Cioè, benvenuta a The Trivia Brunch Benvenuta la domanda Ogni domanda vi presenterà al centro un bottone Nella stanza, quindi ogni domanda sta qui cliccando Ok Ok, la risposta giusta sarebbe alla porta giusta Che vi manderà avanti Quando sbagliate succede qualcosa Una conseguenza Avete capito? Dice Dobbiamo mettere sì, allora Ok Avete capito? Sì Ok, you to understand, hai capito? Meno male Ok Minecraft è un sandbox In che cosa consiste? Minecraft Assassinating templari Uccidere templari Minecraft Rubare le carte alla città Ho fatto, ho fatto, ho morto Vabbè, ma stiamo a leggere Lui io volevo leggere Volare Volare intorno a Arkham City Mi chiamata Guarda volare intorno a Arkham City Sicuramente Dai, due Allora Qual è il nome Il primo nome che aveva Minecraft È questo Qual è questo? Cave Cave game Cave game Il gioco della cava? Il gioco delle caverne Che cazzata Ma che tristezza Allora Vediamo che hanno cambiato nome Il primo tipo di gioco creato per Minecraft No Ah, era in creativa? Allora Il primo gioco di Minecraft Creato per For Minecraft È stata creata come era conosciuta come creative Where it can be easily obtained without any work Qual era l'oggetto? Qual era l'oggetto che era facilmente ottenibile senza lavorare? Che non è La legna Che non è disponibile in creative menu però dice Qua c'è il pesce No, uno che praticamente non è disponibile Il Firewall Rocket Bravo Che è il Firewall Rocket? Ah, sì, è vero Il fuoco d'artificio non si può prendere in creative Però si può craftare Si vuole un comando No, si può craftare tranquillamente Anotter gaming type of culled survival Where it is Eh, ok Qual è un oggetto che si può trovare esplorando il mondo e craftandolo? Che però non è generato naturalmente nel mondo, dice Mmm Craftandolo Forse i carrelli Allora, Iron Door Snowblock La porta si crafta Chi ha sbagliato, chi ha sbagliato? Io Allora, no, ho cliccato Ho sbagliato io E ora come? Ah, dobbiamo trovare i bottoni per tornare Elsa viene dalla parte mia e vado dalla sua Bellissima Come è? Come è scritto qua? Beh, lei, lei, lei Aiuto Ci sta le pulsanti da per tutto, ragazzi Quindi non si rimane incastrato da nessuna parte Ok, qua, ho trovato Oh, mio Dio Ho trovato pulsante per tornare Ok Allora Stiamo dicendo Che cosa avete spinto, per favore? Iron Door Iron Door Io sto dicendo E quella si crafta Oh Che avete spinto stavolta? Grazie Che hai spinto? Eh, snowblock Allora Ma il blocco di neve si trova, in giro, dai Infatti se ti dice, te lo dice Incorrect Iron Door Naturali Incorrect Snowblock Naturali generated In the ice plane spike biome Quindi ti dice pure la risposta Perché è il pistone Quindi tu lo ci puoi trovare Appunto Sì È giusto Questa? Allora Vediamo un po' la domanda 5 Minecraft Consiste in biome E which of the ice not biome Qual è di questi che non è un bioma? Hell Che cos'è? Quale? Hill Hill è l'inferno Quindi dovrebbe essere Hell Non Hill Oh cavolo Vai Chi mi ha spinto? Allora Incorrect Presso F3 Or via the bug screen Sto morendo Fermite che cavolo è Vediamo un po' Si chi è nata? Perché in pratica sarebbe questo l'inferno Non è un bioma È una dimensione Mi butto nella lava Ok non pensavo che questo si chiamava inferno Sì Questo è l'inferno Vabbè Quasero vedevo altre soluzioni Se non buttarsi nella lava Allora Cold beach No No La spiaggia Esiste la spiaggia fredda La spiaggia fredda Allora c'è le montagne È ghiacciato Moriamo qua sotto No Ci siamo ad usci Maia Allocchiamo il processo E io faccio prima Ciao No non ho permesso Oddio Ma che fa cazzo c'è il suo armario Ok Quindi Deep ocean Deep ocean è oceano profondo E dovrebbe essere un bioma Scusate ma che dice la tua Io ho le montagne È giusto Quale non è uno di questi in bioma In pratica Le montagne non ci sono Non si chiamano montagne Vai Nella 1.7 update Introduced quite a few new flowers to minecraft Storm of which with a two block height Which of this is a talus Che cazzo vuol dire talus Qual è dei fiori che viene uno sopra l'altro in pratica Più di uno sopra l'altro Le Le blu orchidee mi sa Provo Prova Bagliato No Scorretto De pure Daisy Scorretto Dei blu orchidee Solli one block Eh non avevo capito che era questa Pensavo che fossero quelli bianchi Addio ragazzi Ok Ci riusciviamo bevendo No a parte l'avevi detto Dopo che doveva essere d'altezza di due cubetti No l'ho detto subito Che fa quella cosa La devo bere Posso io Posso A me l'hanno messo tanto dall'inventario Dai Per me è l'oxidee No Bagliato È un blocco ad altezza Girasole Ma come si chiama il girasole È il peoni È il peoni È giusto peoni Perché mi tornano tutti i cuori quando la beonia L'avevo detto io No regà L'avete cliccato senza che morissi Che cosa? Muori muori Eh ma dove sto Ok Sì Che schiata È quasi tornavi di là Mai forse tutti qua Allora One way to deal the make to mobs Is using gravity Which of this mob cannot be hard by falling Qual è uno di questi mob che non prende danni da caduta? Mob Che non prende danni da caduta All silverfish o lo snow golem Il silverfish non prende danni da caduta Mi sembra E poi Bagliato Ecco qua Oddio Ci sta facendo vedere che prende danni da caduta e muore pure È bellissimo Lo snow golem Hai visto? Te l'avevo detto O il silverfish o lo snow golem È uno dei due Vabbè Vai Allora Most mobs Players Gun dive T-drop From height No off area Se volete dice che I personaggi potrebbero morire Se droppano Quindi se cadono Da un'altezza molto alta Oddio Questo era quando facevamo nel server vanilla E sì Quanti blocchi sono i blocchi di caduta che fanno I mob che cascano? Non lo sa Che facevamo la trappola Ti ricordi? La trappola Oddio 23 Per me so 22 No c'è ragione il da me sa 23 Però 23 Lo sai perché? Perché noi facevamo le trappole nel server vanilla E dovevamo farlo precisamente con i blocchi Lo dobbiamo fare 22 perché se no morivano Cario La domanda dice In standard game of minecraft Witch of the enemies Will the hell The most damaged the player per it Qual è uno di questi Tra questi mostri Che fa Zombie Zombie big man Vai Alvegli stavano alla grande Allora One of the Kind extra baby Si trova Di uso Beacon Witch of disability Si display in the upper day Or the pyramid When we leave The beacon window Oddio questa non lo so Questa è il Io non ho capito Il beacon Il beacon è quello che illumina Si usa per dare dei potenziamenti E lui ci dice Qual è l'abilità Resistenza Dice Indan Bro No Incorrect Ti prego Signor capobastone Boom Ok moriamo felicemente Addio Non è esploda Dio Oh Tattis me dude Ci ha preso per il culo E come andiamo via Trovare un altro modo per morire Oh E ti dà Hulk E ti dà Hulk Oh Mi ammazzare Hulk Mi uccidi Hulk Mi uccidi Hulk Mi uccidi anche a me Anche a me Ma perché Si è incazzato Hulk Lascia di ammazzare Per me dà lo speed No chi ha preso Chi avete cliccato Avete cliccato tutte e due E quindi E quindi non so chi Ok questa è l'aste Adesso è lo jump Regà io non vi vedo più E ma come si fa qua Non mi dici che dobbiamo Fa sta salita No Ve odio Regà io non sto più con voi Non vi vedo Come non stai più con noi Dove sei andata a finire Nella 11 What è perché tu hai Zeccato forse Aspettaci No non ho fatto niente Sono morta Voi avete cliccato Prima che io arrivassi Aiuto Ok Oh no non stavo a sbagliare Regà Io sono alle 11 E le 11 è finita Se volete che vi do Il costo tortura Clicco e mi darà verde Ok no siamo ritornati Grazie Perfetti che ho aperto la volta Vedi che erano Ci ripassi Sì è giusto Aveva azzeccato Allora Su jump Mining Is the key factor in minecraft Speciali What obtaining Resorse Quindi la cosa principale Da fare in minecraft E ottenere risorse Giusto Immigrare Ok O falde Or Emerald Or is the rarest Mineral block In the game E Is home To which specific biome In quale biome si può trovare Extreme Extreme mill Nel deserto No Extreme mill Che cos'è l'extreme mill Nelle montagne quelle altissime Quando trovi quella zona Con le montagne spoglie Praticamente sotto Sei sicuro di poter trovare smeraldi Che cazzata Non lo sapevo Vai clicca Manca il bel Allora No ci so Allora There are number of music discs White the game Can be played using a jukebox What is the title Love the broken music disc Qual è il titolo del disco Rotto Creep Mi sembra Cirp A me sembra che era cirp Non lo so Prova vai Vale che vai Sbagliata Sto girando Sto girando su me stesso Ah dobbiamo andare verso il disco Raga Preso E' una ammazzata Lo devo mettere nel disco Lo ti mette L'ho preso io Ce l'ho io Ok ci sto riuscendo Non me lo fa mettere Ok hai messo Ok Non sbagliare Era sbagliato Posso provare Un disco Oh mazzata Sì E' giro L'ho detto Era uno dei due numeri Allora lava è uno dei due liquidi in minecraft Non include dei blocchi in landzone Ok Poi If lava will to fall Or much distance What if continue to flow in the overworld Quanto Quanto Può percorrere di strada La lava Mi pare 4 blocchi No Ah Per me se ho 4 Provo No È sbagliato lo stesso È sbagliato lo stesso No Più sbagliamo e più se apri A posto Noi siamo andati avanti Ciao A posto 3 3 Sicuri che è 3 Sì No dice Travel 7 block after it land Dice Allora Le pozioni Un altro aspetto di minecraft È È Primi che è bere le pozioni No è Quello per fare le pozioni Cioè Creare Tipo alchimia Or potion o making O creare pozioni Qual è la pozioni Cioè Qual è l'ingrediente base Per fare la tick potion La tick potion È l'acqua No Non c'è l'acqua La tick potion Allora Sono due Che si può fare Caricare O con la redstone Se hai una faccia Da culo Qui è cliccato Ah ok Con lo zucchero Si può fare la swiftness Io ho una pozione In mano Sì Dato la pozione Per farti capire Che la swiftness Si fa con quella Con lo sugar Ah no 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 So io che bisogna fare Buongiorno Vai Brigati Ok 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 Sto a cuore Più di questo Non sa cuore Eh no Non abbiamo fatto un tempo Brevi Bevete E poi andate Sulla vostra plate E non jump Dice No Niente Non ci arriviamo però Perché uscite fuori Non dovete uscite Ecco vedi Il fattore che il dano Esce subito fuori Ti fa partire subito Non andate anche A bere la pozione Il problema è che Quando tu Paricamente fai così Quello lì Te l'annulla La pozione Dadosso Capito Quando riclicchi Il pulsante Ok Dobbiamo prima Bere E poi andare Sulla pressor Sì Ok Cacca 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 Ti l'hai quasi fatta Sì raga Dovete Prima clicca Cioè Aspetta Fermi 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 No è partita Fermi Levate Levate tutti Da qui Prima bevete E poi cominciate A corre Immediate Ecco adesso Guarda Che ho detto Io prima Scusa No però Perché non è partito Perché non sei ripassato Sulla pressu Sì Ci sei ripassato Ditto per dritto Vai Vai Bardook Sì Ok Allora Sì Quindi non è lo zucchero No Lo sapevo già E qual è? La redstone Vai Sei tu l'esperta Le pozioni No è sbagliato Ma che cos'è? Non vedo Siamo su dei video Di ricerca della redstone Sono blocchi invisibili Dobbiamo arrivare alla pressur Che figata È l'operinto Che bello L'operinto invisibile Seguiamo la redstone Tonti Ah può essere Sì Seguiamola Ok Arrivati qua Andate un po' in qua Un po' in qua Se no la redstone A che serve? Sto provandola Non trovo C'è riuscito Hilda Posso cliccare io? Eh vai No Sbagliata Era l'ultima cosa Regano No no Qua che dobbiamo fa? Sì ma che carini I simili livelli A me piacciono tanto Lo fa? Lo so La zappa Loi Ok Che mancava Abbiamo avuto la vela glowstone Dai Glowstone Oh Io non l'ho toccato Allora Passiamo Chi sono di voi No La crafting recipe For the arrow Is one flint above One stick above One feather Using a single item For each How many arrow It is produced? Ok Se non sbaglio Ogni volta Ne produce tre No No Alla due Una 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 Con tre oggetti Una sola No Come fa a produrne i 4 con tre Che cazzo stai a di Quando mi è mai successo Piccole Quando mi è successo Di avere quattro frecce Con un oggetto Un oggetto Un oggetto Cos'è a caso They are many different lights Source in minecraft Witch of theses The break test Qual è la luce più grossa? La cosa che fa più luce Allora redstone no E fa poco Brewing stand Non fa tanta luce Nether portal Select during L'ultima Proviamo No No Forse è la prima Scusate naga Come fa a essere c'è più luce Quando piove Beh quello che produce più luce Che ne so Indicava quella C'era scritto lightning Quindi fulmine produce Poi no Tu sentite qualcosa Ecco Orca Suzza Ok Ci hanno fatto capire Che non era quello Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.